Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è lunedì 17 ottobre 2022. Il sole sta per sorgere e sorgerà alle 7.24, ancora dorme, deve ancora alzarsi e tramonterà invece alle 18.22. Le giornate si stanno veramente accorciando. Oggi è una giornata particolare, iniziamo insieme una settimana, una settimana che sarà improntata in modo particolare a Fano da un evento che si dilungherà per più giorni ed è il Fano International Film Festival, di poi ne parleremo ovviamente. Ora diamo subito un'occhiata all'almanacco a partire dal Santo del Giorno. Vediamo la grafica e vediamo che è una icona di carattere orientale. Infatti oggi si festeggia Sant'Ignazio di Antiochia. Non è il Sant'Ignazio di Loyola, insomma, è un santo che ancora vive i primordi della Chiesa. Fu infatti un discepolo di San Giovanni. Fu vescovo di Antiochia e fu martirizzato sotto l'imperatore Traiano. Fu sbranato dalle belve nel Colosseo. Fu una delle tante vittime che nel circo fu immolata per divertire appunto i pagani. La sua fede fu incrollabile. Durante il suo viaggio da Antiochia a Roma, dove poi fu appunto trasferito in prigione, scrisse ben sei lettere ai cristiani delle comunità orientali che si stavano formando intanto in quelle zone. comunità di Efeso, di Magnesia, di Smirne, di Traila. E scrisse anche una lettera a San Policarpo, incitando tutti a conservare la fede, come poi egli fece e testimoniò. Diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo. Il tempo si mantiene bello, si mantiene con un cielo sereno. Lo vediamo qui nella grafica, su tutta la regione o al più poco nuvoloso. Saranno possibili leggeri foschie tra il Pesarese e l'Anconitano in mattinata. Le massime aumentano un pochino. Si aggirano dai 14 ai 24-25 gradi nelle ore più calde. I venti spireranno sulle coste, con una direzione debole da nord, leggermente variata nell'entroterra da una direzione di nord-est. Le temperature si mantengono, come abbiamo detto, su valori piuttosto miti. Bene, ciò detto, diamo un'occhiata anche a Fano. Dall'alto di Monte Giove vediamo le luci della città che si risveglia. Quelle che camminano sono quelle dell'autostrada. Il mare, grigio in lontananza, si confonde con il cielo. Insomma, il sole deve ancora nascere. Quando nascerà, attingerà di rosa un po' tutto il territorio. Sarà una bella visione. Una zoomata, un po' sfocata, devo dire, su alcune parti del territorio fanese. Comunque, è sempre molto molto bello. Ebbene, ora diamo un'occhiata ai giornali con una cronaca un po' ridotta. Oggi è lunedì, insomma, la domenica anche i giornalisti cercano di riposare un po'. Quindi noi cominciamo subito con lo sport. E vediamo che i risultati per quanto riguarda il calcio sono altalenanti. Per quanto riguarda i tifosi cattivi per la Vispesaro, buoni invece per il Fano Calcio. Infatti, il Corriere Adriatico intitola, per quanto riguarda la Vis, un derby da incubo. Il Rimini vince addirittura per 5-0. Piazza l'1-2 dopo appena 13 minuti. Alla fine del primo tempo arriva il poker. Già vinceva per 4-0. E dopo un avvio con un paio di occasioni, i Biancorossi sono usciti mentalmente dal match. Hanno gettato le armi e hanno perso per 5-0. Un naufragio, così dice il Corriere Adriatico, un naufragio visse nei mari della riviera di Rimini. Derby amarissimo per i colori pesaresi, durato in pratica 13 minuti. I primi in cui tutto ciò che potevano andare storto è andato di traverso. Certo, sulla rete iniziale di Gabbianelli ci sono responsabilità proprie. Inesistente l'opposizione di Zoya, mancata chiusura di Auccelli, Farroni, Immobile. Insomma, una partita che è andata tutta per traverso. Vediamo anche il titolo che appare sul resto del Carlino. Altra figuraccia nel derby, la Vis annichilita. Dopo 24 minuti, i Romagnoli erano già avanti di quattro reti. La squadra di Sassarini mai in partita. A fine gara tutti a chiedere scusa. Una batosta storica da dimenticare al più presto. Insomma, occorre rinvigorire la squadra per poter ottenere dei risultati al pari delle aspettative. Invece esultano i tifosi del Fano Calcio. Il Fano passeggia a vasso e conquista il primo posto in classifica. Una cosa che non era mai capitata da tanto tempo. Quando nei campionati superiori e in quello attuale dell'anno scorso si andava sempre un pochino nei bassi fondi della classifica. Al Maioventus Fano sbanca uno stadio Aragona privo di tifosi perché la gara si è svolta a porte chiuse. Ma questo non ha impedito ai marchigiani di festeggiare negli spogliatoi con il loro allenatore. Andrea Mosconi che vede a braccetto con il pineto tutti dall'alto grazie al primo posto in classifica. Quindi una bella partita. Anche il Corriere Adriatico dà spazio a questo risultato. Il Fano espugna vasto e si prende il primato. Decide un gol di Tomassini. Alma invetta la classifica con Avezzano e Pineto. È in compagnia di tre squadre che sono abruzzesi. Però insomma ora siamo ad un buon punto e speriamo di mantenere questa posizione. Ed ora diamo un'occhiata alle notizie che ci pubblica il resto del Carlino. Diamo un'occhiata alla prima pagina e vediamo come sono riassunte un po' le notizie di tutte le province marchigiane. A Macerata i sindaci in pressing serve subito lo stato di emergenza contro il maltempo. E poi vediamo che a Monte Cassiano si è dato l'addio a Maurizio morto durante l'arrampicata. Domani i funerali. A Civitanova una rissa tra ragazzini aggrediti con lo spray urticante. A Dancone invece c'è stata una fiaccolata per la donna vittima ancora di un femminicidio. Ed è stata una fiaccolata a cui hanno partecipato musulmani e cristiani insieme. Insomma quella donna non meritava di morire come nessuna donna merita di morire per le percosse ricevute dal compagno o dal marito. Un altro è fatto di cronaca, un denunciato, una lite per gelosia tra due uomini. Il compagno lo caccia di casa e lui gli spacca un vaso in testa. Insomma una rissa tra due conviventi dello stesso sesso e quindi sono arrivati i poliziotti. Oggi la protesta per Villa Adria tagli in busta dipendenti in sciopero. Un caso sindacale che dimostra le difficoltà delle aziende di andare avanti con la crisi incombente. Per Pesaro vediamo invece che si parla di una bella domenica. Di una bella domenica che i pesaresi hanno passato tra diverse manifestazioni. Prima tra tutte la visita a Palazzo Perticari, una delle più belle iniziative organizzate dal FAI che hanno fatto un po' impalidire le altre. Il Palazzo Perticari riportato allo splendore settecentesco così come l'aveva fatto il suo illustre proprietario di casa ora è Signoretti che ha replicato quei provvedimenti. E ieri tante le persone che sono entrate in quel palazzo dopo tanti tanti mesi che è durato il suo restauro. Vediamo ancora Ascoli e Fermo, ciclista investito da un'auto in retromarcia portato a Torrette in eliambulanza. A Fermo il territorio amico delle persone sorde. Ecco il progetto. E poi a Montegrenaro, premio ai sindaci della città, noi al servizio delle istituzioni ed arcuata la tragedia dell'escursionista, lo strazio della moglie, ho bisogno di te. Insomma ci sono veramente dei vuoti che lasciano certe persone che purtroppo incorrono nelle mire di un destino crudele. Apriamo il giornale e fermiamoci a Pesaro. Riecco l'estate, una bella giornata, ieri anche con una temperatura mite. Riecco l'estate tra prati, arte e sapore di mare. Al mare distesi ancora, pensate, siamo alla fine quasi di ottobre, insomma non proprio alla fine, però con un mese avanzato e ancora ci si gode a stare in spiaggia. Ovviamente non in costume, però con il tepore del sole autunnale. Tante le famiglie che sono andate con i loro bambini per tutta la giornata di ieri anche al parco Miralfiore, per i mercanti in gioco. Una bella iniziativa che vede protagonisti i bambini che vendono i loro giocattoli usati. L'assessore Freque e Luci ha parlato di un ottimo modo per far socializzare i bambini e fargli scambiare i giocattoli in modo amichevole. Preso d'assalto anche il mercatino dell'antiquariato di Piazzale Matteotti. Un appuntamento classico, questo della Stradomenica, che vede un centinaio di espositori di merce antica, libri, fumetteria, insomma tanti tanti oggetti che magari attirano la curiosità del pubblico e quindi qualcuno è anche tentato di comprarli. Una clientela, in questo caso, che arriva anche da fuori Pesaro per non marcare ad una delle fiere del settore che sembra allargarsi ogni domenica sempre più. Però è la zona mare che è stata presa d'assalto dalle famiglie con la palla di pomodoro e i baretti attorno colmi di clienti che intendevano vivere uno scorcio di sole e di caldo legno del mese di maggio. Invece tutto un articolo è dedicato a Palazzo Perticari. Boom di visitatori in coda a questo palazzo. Meraviglia e stupore sono le due vere espressioni che descrivono quello che si è provato entrando in questa antica dimora. Aperto per le giornate del FAI avrà quasi sicuramente altri appuntamenti per le visite e Signoretti non lo ha escluso. Tanta gente solo per Palazzo Ducale. Anche questa è un'altra visita interessante da fare. Ebbene, ci sarà un bis e anche un trisse perché tanta gente così non si vedeva da quando con il FAI abbiamo organizzato visite guidate all'interno di Palazzo Ducale che fu aperto per la prima volta. Palazzo Ducale a Pesaro purtroppo è sede. Dico purtroppo perché è un palazzo che merita un altro rilievo di carattere culturale e sede della Prefettura. E quindi non tutti e non sempre gli ambienti sono visitabili. I prefetti ultimamente hanno comunque concesso le visite a questo punto importante della storia di Pesaro. Sede dei Malatesta, sede degli Sforza, insomma di tutti i signori che hanno governato la città, della Rovere e via dicendo. Ebbene, però ora l'attenzione si è appuntata su Palazzo Perticari. Un palazzo con delle sale rimesse a nuovo, bellissime, che danno l'idea della temperie culturale che si era vissuta in quegli anni con personaggi illustri che visitavano di Mura questa famiglia, tra cui anche Gioacchino Rossini. Statale si scende di 8 metri, progetto pronto a febbraio. Pensate cosa significa Viale della Vittoria a Pesaro se incrociando Viale della Repubblica, invece di incrociarlo raso, come accade adesso, lì c'è un impianto anche semaforico, scende sottoterra e fa un tunnel. E quindi dal piazzale di Via Rossini si scende verso la palla di Pomodoro senza incrociare la Statale. Quindi una rambla, così come viene definita oggi dal resto del Carlino, una bella passeggiata. Vedete, questo è Viale della Vittoria. In questo punto prosegue, ma con il progetto vediamo che qui c'è un... prosegue invece la passeggiata da Viale Rossini che si trova da questo lato verso la palla di Pomodoro che si trova in quest'altro lato. Quindi questo è un Viale unico senza soluzione di continuità. Mentre il Viale della Vittoria passa sotto. È qui un sottovia. Sarebbe un bellissimo progetto, un bellissimo progetto cui si è dato il progetto di fattibilità che è già stato realizzato dall'ingegner Marco Bianchi di Fratte di Sasso Feltrio. Adesso si passa ai disegni, alle misure e al piano di costruzione. Il tutto dovrebbe costare 5 milioni di euro. Sarebbero ben spesi. Un fatto di cronaca. Attenzione ai funghi. Questa è la stagione dei funghi, ma occorre saperli conoscere, occorre saperli cogliere. Cognugi gravissimi per i funghi trasferiti in rianimazione. L'avvelinamento è avvenuto ad Apecchio. Si tratta di una coppia originaria dell'Albania, quindi non conoscevano i funghi. Ah no, della Romania, scusate. Si tratta di coniugi poco più che quarantenni della Romania che hanno mangiato i funghi che sono veramente quelli velenosi, ovvero l'amanita falloides. Chi non la conosce può confonderla con i funghi mangerecci. In realtà è micidiale. Ed ora questi coniugi che l'hanno mangiata sono ricoverati all'ospedale di Città di Castello. Le loro condizioni sono gravi. La prognosi è riservata. E veniamo ora a Fano. Veniamo a Fano perché ieri si sono svolte le elezioni della carnevalesca. Erano delle elezioni scontate. C'era solo una lista in gioco. Quindi la si votava tutta in blocco o non si votava. Questa era l'unica alternativa. La Gian Marioli fa il suo terzo mandato, questa volta di quattro anni. Quando lei concluderà saranno dieci anni che sarà il governo della carnevalesca. E ieri si è presentato cento, quanti sono? Centotredici persone al voto su cinquecentotrentatré iscritti. Quindi al voto uno su cinque. comunque è bastato per eleggere e bastava anche un voto ovviamente perché non c'era nessuna alternativa per eleggere il nuovo direttivo della carnevalesca. La prima seduta del nuovo consiglio direttivo è già stata convocata per domani sera nella sede di via Rainerio 6 quando, salvo sorprese, la Gian Marioli e Mirisola saranno nominati rispettivamente presidente e vicepresidente. Non dovrebbero essere sorprese per quanto riguarda queste nomine che si danno per scontate come per scontata era l'elezione della lista in gioco. Passiamo ad Aqualagna e vediamo un dramma è deceduto un ristoratore improvvisamente colpito da malore aveva appena cinquantanove anni si tratta di Gabriele Beligni Cordoglio Cordoglio ad Aqualagna per la morte di questo operatore gestiva il ristorante Il Tartufo al centro del paese una persona molto conosciuta che ha destato la cui fine ha destato il Cordoglio di tutti. E a proposito di Tartufo vediamo che c'è stato un boom di visitatori alla fiera Il Tartufo d'Oro di Sant'Angelo Invado con la consegna di questo emblema di questa onoreficenza al Dottor Costa quello che ha ideato la motomobile sanitaria a seguito dei campionati di motociclismo in giro per il mondo un presidio importante che è attivo in caso di incidenti che purtroppo sono frequenti e di cadute durante le gare. Ed ora diamo un'ucchiata anche alle altre province vediamo qui l'articolo della lite tra i due conviventi spacca un vaso in testa al compagno ed è stato denunciato una lite furibonda è scoppiata per celosia tra due uomini in un'abitazione del centro di Ancona la polizia è intervenuta per evitare il peggio ed è stato espulso il brasiliano si tratta di un italiano ed un brasiliano che vivevano insieme e poi qui invece il corteo ad Osimo per quanto riguarda le proteste delle proteste silenziosi ma molto molto significative contro il femminicidio contro il femminicidio che ha dato un altro così eclatante esempio di quello che sta avvenendo ancora in tutta Italia per quanto riguarda la supremazia dell'uomo nei confronti della donna ancora per quanto riguarda la parità tra i sessi c'è molto da lavorare fermiamo la violenza sulle donne la comunità islamica condanniamo quell'atto osceno anche la comunità islamica si è unita agli altri cittadini per protestare per sensibilizzare le persone contro questo fenomeno che sembra che non si esaurisca mai e ora chiudiamo il resto del carlino e vediamo invece cosa ci dice il corriere adriatico dove qui c'è un problema di solito la pagina di Fano non comincia così invece oggi vediamo che è una impaginazione un po' strana se non che manchi forse una pagina in realtà la numerazione è giusta perché qua abbiamo la pagina 14 la vediamo qua e qua abbiamo la pagina 15 ma l'intestazione non sembra quella abituale infatti mancano alcune notizie ve lo dico insomma come come interessato e l'articolo invece che viene pubblicato è quello che riguarda un dibattito che c'è stato recentemente in consiglio comunale è stata una mozione che ha dato origine a queste a questo dibattito una mozione presentata da Marchigiani e Corra Fattori quando i due stavano insieme ora Corra Fattori ha abbandonato i seggi del consiglio ed è passata in quelli della giunta è assessore infatti e si parla di acque piovane pensate come sarebbe risparmioso e anche interessante dal punto di vista ecologico recuperare le acque di scarico noi facciamo un uso dell'acqua potabile molto molto così magari anche trascurato ne sprechiamo tantissima quando facciamo la doccia quando la usiamo per i servizi igienici quando magari innaffiamo l'orto e via dicendo ebbene quell'acqua potrebbe essere usata invece come recupero dall'acqua di scarico per incentivare questo l'assessore Fanesi l'assessore all'urbanistica ha allo studio un progetto quello di dare dei benefici per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione per le nuove costruzioni le nuove costruzioni che costruiranno un impianto di riciclaggio delle acque di scarico avranno uno sconto degli oneri di urbanizzazione e di questo l'assessore ha detto che se ne parlerà prossimamente anche con gli ordini professionali dunque un dibattito interessante che ha avuto anche alcune integrazioni da parte delle opposizioni che non sono rimaste insensibili a questa proposta tant'è che la mozione di marchigiani e fattori è stata approvata all'unanimità a terre roveresche una comunità energetica l'annuncio del sindaco Antonio Sebastianelli arriva anche lo scuola bus elettrico che va con il sole insomma si cerca di risparmiare in tutti i modi l'energia elettrica quella che costa quella che fa aumentare a dismisura le bollette e poi su questo articolo di spalla invece si parla di un'iniziativa che è programmata per sabato prossimo si tratta degli stati generali del turismo un focus su cultura e outdoor sabato incontro in teatro su presente e futuro i cosiddetti stati generali del turismo si svolgeranno appunto nel teatro della fortuna sabato prossimo si comincia al mattino sarà l'assessore agli eventi e alle attività produttive soprattutto al turismo Etienne Lucarelli che ha voluto fortemente questo momento di apertura e confronto un dialogo con gli operatori soprattutto coloro con i suoni interessati gli albergatori i commercianti i baristi i ristoratori sono tutti quelli che hanno che alimentano le loro attività grazie anche alle presenze turistiche sarà un'occasione importante per tutti noi ha detto Lucarelli oltre a commentare e analizzare i dati turistici della stagione appena conclusa illustreremo e condivideremo le linee strategiche poiché la chiave del successo sarà lavorare insieme così ha detto Lucarelli ma sarà un momento importante perché il sindaco ha detto che proprio in occasione degli stati generali del turismo sarà esposto il progetto delle nuove terme di Carignano un progetto molto molto atteso da tutta la cittadinanza che dalle terme potrà ricevere un vantaggio per quanto riguarda le attività economiche grazie ad una maggiore presenza di turisti che per soggiornare alle terme soggiorneranno ovviamente anche nelle strutture ricettive della città il progetto delle terme prevede anche la costruzione di un grande albergo da 130 posti cosa che insomma ancora a Fano non c'è magari nemmeno della metà ecco perché è molto importante questa nuova struttura ricettiva e diamo anche un'occhiata invece alle pagine della regione Marche dove vediamo che la candidatura ad assessore di Carlo Ciccioli è sempre più lontana ormai sta svanendo a Ciccioli in caduta libera in titola il Corriere Adriatico il governatore Acquaroli sta pensando a un avvocato ad un commercialista per sostituire Guido Castelli che è stato eletto in Senato quelle parole delle vittime e dell'allusione pronunciate martedì in consiglio regionale da Ciccioli erano sul posto sbagliato al momento sbagliato è stata un po' la sua condanna tra virgolette per il nuovo incarico ed è una dichiarazione che ha ricevuto anche una ribalta di carattere nazionale insomma è stata una grande sensazione sulla pagina di Pesaro il Corriere Adriatico evidenzia le difficoltà dei gestori delle piscine difficoltà che derivano soprattutto dall'aumento delle bollette ma anche dagli spazi insufficienti per soddisfare le richieste piscine allo stremo e società in fuga senza aiuti rischiamo di chiudere e poi a Muraglia una processione di amici domani a Ronco l'addio a Giuliani si tratta di Giuliano Tacchi che è deceduto a 72 anni lascia la moglie e un figlio il professore del welfare viene viene ricordato in modo particolare dai sindacati e poi l'articolo che riguarda l'afflusso di gente al parco Miralfiore ieri il parco non fa più paura è un luogo sicuro tutto da vivere era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento alle 7 di domani mattina e per le notizie del giorno alle ore 20.30 al TG di Fano TV Occhio alla Notizia condotto da Simona Zonghetti grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci